Lanciamo una delle varie attività informative della protezione civile che in questo anno abbiamo messo in piedi, lanciamo la brochure di Celestino perché la protezione civile aquilana ha una mascotte che è Celestino, è questa brochure, questa è Celestino e è una brochure dove vengono spiegate le buone pratiche di protezione civile. Abbiamo deciso di inviarle alle famiglie tramite i ragazzi perché non riguarda soltanto i ragazzi ma in realtà è una brochure informativa a 360 gradi utilizzando i ragazzi e quindi innanzitutto nelle scuole per poi trasmettere alle famiglie. Ci sembra il modo più importante e più semplice per poter far sì che si possa divulgare il pensiero e come funziona la protezione civile comunale e quindi partiamo dai ragazzi, le scuole spiegheranno che cos'è e poi successivamente arriveranno alle famiglie perché le riporteranno i ragazzi alle famiglie. Credo che sia un grande momento per la protezione civile comunale che ha messo in piedi in questo periodo tante attività di vario genere tra cui questa, tra cui quella di una serie di esercitazioni, siamo in direttura d'arrivo per la app di protezione civile, sempre in accordo con l'Accademia delle Belle Arti, diciamo così, verso febbraio-marzo sarà pronto anche un video che potrà essere proiettato nelle scuole, anche nei cinema, cioè in televisione per poter mettere in atto una serie di accorgimenti a difesa e tutela delle persone, una serie di attività ad ampio raggio che la protezione civile comunale e il mio assessorato in questo anno hanno messo in piedi e che credo che saranno importanti proprio per quelli che sono i compiti della protezione civile comunale. Mi preme anche sottolineare che abbiamo partecipato a un bando europeo, abbiamo ottenuto un finanziamento di 100.000 euro, che lo utilizzeremo proprio, anche questo perché è finalizzato alla comunicazione, dove verranno fatti dei totem informativi, dei punti di interesse, ecco tutti aspetti fondamentali per divulgare quelle che sono, in caso di necessità speriamo mai, ma soprattutto a livello di formazione informative a carattere generale.